Attesa per l'autopsia sulla bimba di due anni e mezzo di Bregnano, morta all'improvviso la scorsa settimana, dopo essere stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale Sant'Anna. L'esame anche oggi è stato rinviato, in attesa di una decisione sull'eventuale apertura di un fascicolo in procura a Cuomo. Solo dopo l'autopsia sarà possibile chiarire cosa abbia causato la tragica e improvvisa morte della piccola. Nell'attesa non è stato possibile nemmeno fissare la data dell'ultimo saluto alla piccola. I genitori si sono rivolti anche alla procura per capire come avere risposte certe sulla morte della figlioletta. Solo l'autopsia, che comunque dovrebbe essere effettuata in tempi brevi, potrà fare chiarezza su una tragedia che al momento è ancora senza un perché. La bimba di Bregnano è morta giovedì scorso in tarda serata, dopo essersi sentita male nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni sembra che la bimba non stesse bene e che per questo fosse stata portata dal pediatra. Il medico avrebbe prescritto una terapia ma non avrebbe riscontrato problemi allarmanti. Poco dopo il ritorno a casa però l'improvviso peggioramento e la morte della bimba nonostante l'intervento tempestivo del 118 e il trasporto d'urgenza al Sant'Anna.